Musica Musica Ok, salvi La prossima sarà la prima Allora, questa è la luna Musica Non so se non so orale. Ok? Faut rupondre. C'est ça. Rupondre un minuto, c'est ça. Sì. 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 C'è un programma, in cui le studenti dei 3 Ariane städte, Augsburg, Vernon, Colferro, ottenano molto informazioni sull'Ariane, 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 sull'Ariane. Sì. 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 comunque paesi vicini all'Italia noi non abbiamo la possibilità di stare così a contatto con le persone di altra cultura e inoltre sto imparando anche a parlare francese il tedesco è un po' più difficile però il francese è più facile e posso mi piacerebbe esprimermi anche in lingue europee che non sia la mia chiudo l'acqua esco dal bagno mi risveglio mi guido perché mi sono svegliato benvenuti a Vernon lui il bercello dell'aventura spaziale europea è in mettendo in common le loro compagnie le loro finanziere e tecniche che gli europei possibano il sviluppo della fusione ariana con l'objectivo un primo vol del 15 marzo 1979 applausi 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 ringrazio anche la comunità dei villi d'Ariana la ville di Augsburg di Stad Augsburg la comunità di Colifero e anche l'Unione Poi e Cultura noi vogliamo che le persone di tre città all'Europa le città belongingi alla CVA la comunità di città le città potremmo una settimana ogni sei mesi nel loro paese o in un altro paese in modo che si tratta di un'opportunità ho visto che se si tratta di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità è possibile è possibile fare qualcosa che è veramente molto, molto, molto questo è anche grazie a tutti di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità sottere con persone con delle 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 culture e anche si tratta di un'opportunità di un'opportunità perché la comunicazione non è vero è vero si si tratta di un'opportunità con un progetto per esempio fabriamo una fusione quindi hai due ore per fabricare una fusione con questo materiale hai una foglia con due o tre expliche su cosa è la propulsione la gravità eccetera e hai due ore per realizzare la fusione e quindi questo è davvero bene perché è una pratica e queste cose che non abbiamo l'attività di fare e che possono essere approcciate di quello che potremmo fare più tardi in un mondo professionale scientifico e inoltre ci spiegano più profondamente scientificamente quali sono le caratteristiche di quel lavoro quindi è importante e ci fa capire cosa vogliamo fare poi un giorno quando usciremo da scuola perché poi alla fine l'obiettivo è quello è capire chi vogliamo diventare e qual è il lavoro che vorremmo fare ci spiegano ci spiegano ci spiegano e le farà ci spiegano e le farà ci spiegano per riscaldare